Ghivizzano è una frazione del comune di Coreglia Antelminelli, nella provincia di Lucca, in Toscana. Il borgo di Ghivizzano, dalla fine del Novecento alla seconda metà del 1300, fu feudo e giurisdizione dei Rolandinghi, poi dei Castracani degli Antelminelli, che lo elessero a residenza familiare e a centro delle loro operazioni militari, da cui il nome del borgo, che fu fortificato dal condottiero Castruccio Castracani, cacciato da Lucca dalla fazione dei Neri, duca di Lucca, signore di Carrara, Lerici, Pisa, Pistoia, Pontremoli e Sarzana e gonfaloniere del Sacro Romano Impero. La sua importanza crebbe notevolmente sotto Francesco Antelminelli, prima vicario, poi conte di Coreglia, che dal 1329 al 1355 dimorò a lungo nel castello con la moglie Giovanna e il figlio Filippo, quindi con la seconda moglie Tobiola, dalla quale ebbe più figli. Gli Antelminelli conservarono la giurisdizione su tutta la vicaria della montagna, fino al 1369. Da allora Ghivizzano rimase pacifico possesso di Lucca, eccezion fatta per gli anni successivi al 1438, durante i quali, espugnata da Francesco Sforza, alleato di Firenze, divenne fino al 14 maggio 1441 un minuscolo potentato del famoso capitano, per poi tornare a far parte dello stato lucchese. L'ingresso al paese è da una porta ad arco, cupa e solitaria, da cui si snodano la via piastronata che conduce al centro e la via Sossala, chiamata così da Sub-Sala, ossia sotto il palazzo, con cielo avvolta illuminato solo da feritoie, via che si svolge lungo il settore meridionale del castello, che conduce ad ammirare archi, ripide scalette, ballatoi di legno sospesi, finestrini in mattone, torri divenute terrazze.